qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione a tutti ragazzi sono sergi adene bentore sul mio canale sono tornato dopo tantissimo tempo che non faccio un video serio con la facecam che non pubblico una serie che sia tra assassin's creed e gta ok perché ho visto che il video precedente sulla squadra adidas all stars che avevo pubblicato lo scorso luglio con fifa 16 ha riscosso diciamo un successo maggiore di quanto pensassi quindi ho deciso oggi di portarvi la stessa partita però fatta su fifa 18 dato che è passato tipo da 20 di usa a tipo 90 un mese vabbè non sono numeroni però insomma fa sempre piacere tutto ciò e quindi ho deciso di farvelo anche su fifa 18 adesso sto cercando scusate si ripresa veramente poca attenzione però sto cercando divise classiche che mi ha venuto il pallino per le difese per le divise classiche però non c'è del psg manchester city event ci sono molto ridotti celsi bayern atletico e si fermano poi le divise classiche di quest'anno perché devo cercare quello dell'inter però vabbè andremo a fare la partita ragazzi squadra adidas all stars e tanto mi sta piccando le rose online tanto vi chiedo di lasciare subito like riscrivervi ragazzi perché sono contento che siamo come diceva montella in linea con i nostri obiettivi perché io mi quando apri il canale a giugno per fissai 35 iscritti per l'inizio della scuola 50 per natale 65 per carrevale 100 per giugno prossimo 2018 quindi le cose stanno andando benissimo 36 iscritti all'inizio della scuola avevo poi addirittura 52 a natale siamo a 56 ragazzi per martedì grasso ne voglio 65 quindi ragazzi se siete nuovi subito andate dentro che trovate anche altri contenuti molto importante avete la mia parola allora vedo che qua c'è una squadra 87 insomma la scorsa partita affrontai il l'inter nello scorso episodio non giocheremo più con esperto ma giocheremo con campione quindi un po le cose sono cambiate ora io andrei a affrontare l'udinese però e guardate ragazzi sono apprezzato dal calcetto se avete tornato a casa mi sono felato subito a far video ragazzi la maglia è ufficiale potete vedere però ragazzi veramente giocare con l'udinese è una vittoria un po troppo scontata quindi andiamo a giocarcela con l'inter che vediamo abbiamo delle maglie che non sono neanche così brutte sbagliato però c'è la terza all'inter ragazzi qua allora vediamo chi ci danno ci danno noi era difesa 3 un po un rischio però marcelo un bene ci stiamo veramente senza difensori perfetto bale e agli processi fa ma nessuno dei due velocissimo però bene destro tanto mettiamo silva al posto di osile mi dispiace per così però ci sono delle giro a chi da scalare a becco a suarez e messi credo siano fuori discussione abbiamo queste sostituzioni tra drax e gavi il gesù spenze mausi beh sì possiamo variare delle sostituzioni però non abbiamo ragazzi difensori cinque minuti sanderson park ragazzi cerchiamoci uno stadio noi giochiamo al centro link field nel presidente ma non credo ci sia invece sì ragazzi c'è e quindi giocheremo ragazzi la scaravanzia portò a un bel 3 a 0 nella partita del primo episodio e qui ragazzi per scaravanzia giocheremo nel nello stesso stadio vedo che le cose cominciano anche a partire benino e ragazzi andiamoci a giocare contro l'inter speriamo di non fare un episodio campatinare dove veramente ci martellano di gol sperende no sto già friggendo ragazzi sto già friggendo vabbè si giocò di notte in realtà nell'episodio scorso adesso qui giochiamo di nulla in brunire si può dire così ecco qua ragazzi adesso dico suarenza e messi non dovrebbero farsi ipnotizzare da ricardi miranda murin ghermanovic però mai direi mai ragazzi questo è già buono attenzione ai cardi c'è bene da dietro non ci voglio credere ragazzi l'ho già preso l'ho preso da mauricardi qualcuno a coprire qualcuno a coprire poi cavallero fuori gioco poi alla barba lunghissima quello hanno fatto dell'errore un incapacito dell'errore ragazzi attenzione questa palla una parabola un po' vista male e ripartiamo un contropiede beh il appoggia dietro ottimo non l'ho visto messi a lì 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 uno pari ragazzi ottima questa palla di leo messi sempre in profondità per delle alli qui si non potevo neanche mettere dentro questo fatto benissimo a tirare ragazzi adesso si va sul vai via david silva messi messi contro miranda non puoi farti va la palla messi messi ottimo messi no andame dice la messi non va non va ragazzi non va non vuole andare non vuole andare e loro hanno pazienza ragazzi pazienza ma da cinquesimo si va adesso a riposo speriamo di andarci con non col vantaggio ma col pareggio cosa ha fatto ragazzi cosa ha fatto il difensore non ci credo il problema è che siamo molto limitati per i cambi e io adesso passo a una difesa a quattro perché stiamo veramente rischiando troppo mettiamo il 4 4 4 4 2 ragazzi 4 4 1 però 4 4 2 marcelo è marcelo un mezzo marcelo può giocare terzino destro no alaba può giocare terzino finito è un po' critica situazione perché qua dobbiamo far arretrare qualcuno e allora arretrerà accante per forza rischieremo facendoli fare il difensore centrale mettiamo al centro silva cambiamolo con bail e semmai vedremo come risolve la situazione del secondo tempo ragazzi non voglio rischiare in difesa allora metterò almeno ho due terzini palla dentro è posizione regolare messi nooo 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 cosa ha preso Andanovic volta sicura angolo io non so battere calci d'angolo per il pedraxer non rischio non rischio e butto dentro questa palla dentro non va ma cantè ha lì niente da fare meno male il capitolo non è nero nooo noier 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 ragazzi noier su i candi ha segnato un go noier ragazzi occhio al cross di Candreva Candreva Messi 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 sei solo come un cane Suarez posizione regolare Suarez Andanovic non ci voglio credere ragazzi spegnete tutto e andate a letto spegnete tutto e andate a letto Suarez che lavoro difensivo Messi Dele Alli Messi 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 Leo 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 2 a 1 ragazzi 2 a 1 sinistro fulminato di Messi ragazzi era l'ora è tutta la partita che si tira è tutta la partita che si tira Areth Bale Bale guardate qua che che possenza fisica che ha Bale che cacchetta che cacchetta che ha tirato calcio d'angolo e calcio d'angolo per noi esce Gagliardini va di tutta potenza manco chi appattono dei nostri a lì a lì dentro angolo ancora il cambio che mi compilano che io non faccio Gareth Bale dentro è piuttosto facile gli angoli vanno battuti sul primo palo non hai visto niente arbitro non hai visto niente attenzione tiro l'ho vista dentro ragazzi quindi ragazzi l'Inter è tutto in avanti e noi rinviamo su rinviamo su fa sponso Suarez fermato punizione per noi punizione per noi punizione per noi entra d'Albert per Nagatomo da andare le ho messi forse l'ho calciata un po' troppo piano l'ho calciata anche bene però ho mirato ma l'ho calciata proprio male stavo scherzando ottantesimo ultradifensiva 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 sicuramente succederà non lo so lo state vedendo un po' della durata del video pala dentro Neuer Neuer Manuel Neuer Manuel tre minuti di recupero adesso ragazzi tutto l'Inter è andato su qua fallo tattico fallo tattico che ci sta benissimo e facciamo dare Gabri e Gesù sul posto di Marcello che è un cambio così va bene Perisic D'Ambrosio non lo devi perdere Neuer ragazzi Manuel Neuer e abbiamo vinto abbiamo battuto l'Inter anche nel secondo episodio di ho sbloccato la squadra della Soul Stars ho fatto tutto il possibile ragazzi abbiamo vinto meritatosi perché insomma al secondo tempo fino al 2 a 1 abbiamo veramente tartassato i tiri l'Inter fino al gol di Leo Messi su quattro tiri ha bucato uno quindi una buona festazione di San Milano 3 pali io vi dono veramente una brutta notizia non chiudo il canale forse quella potrebbe essere anche bella per voi la notizia che vi do è che fino a FIFA 19 non farò più un episodio di ho sbloccato la squadra adida Soul Stars perché non avrebbe ragazzi veramente senso e quindi la migliore campo ha lì con 9,3 quindi ragazzi è inutile e semmai ho mente di fare partire di cominciare a farvi una una serie su gli All Star di ogni campionato tipo la Liga di Campo desliga Serie A e farci un torneo forse cominciare le registrazioni questo fin settimana fin settimana 27 28 gennaio non ne sono sicurissimo però è una cosa che si potrebbe fare lasciate like iscrivetevi come indicato punto consulta anche gli indirizzi se volete contattarvi che nei video o nei serie lo metto in alto a destra invece qua ve li metto se recuperatevi troppo spazio ve li metto in basso a sinistra che c'è basso a destra vostra che c'è gli iscriviti e la parte del segno del schermo sono tutti gli indirizzi se volete contattarmi per qualcosa di privato io sono sempre disponibile sempre attivo disponibile a chiacchiare con voi ragazzi salutarvi vi ricordo inoltre ragazzi che novità chi saluta il ultimo commento che vuole essere salutato ragazzi nel prossimo video che farò vi saluterò in persona e vi linkerò i vostri canali nella descrizione e vi metterò uno screen del vostro canale quindi potete anche farlo e io proverò a mettervi tutti vi metterò 3-4 alla volta ragazzi ok? ciao a tutti ragazzi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti